E come promesso riesco a parlarvi di Clickbait, questa miniserie originale Netflix che trovate sull'omonima piattaforma e che vale sicuramente la pena di vedere. Chiaramente non voglio farvi spoiler perché ho tutto l'interesse a mandarvi a vedere la serie perché mi è piaciuta tantissimo e quindi la sto un po' sponsorizzando in giro anche con amici, parenti, conoscenti, congiunti, come si diceva qualche mese fa perché mi è piaciuta molto, molto, molto. Non solo perché permette di trascorrere qualche ora veramente al cardiopalma perché il ritmo del thriller, perché è un thriller, è piuttosto serrato. Quindi sapete quelle serie televisive dove una puntata tira l'altra, no? Come le ciliegie perché volete andare avanti a vedere come va a finire. Questo sicuramente vi aiuta se state cercando qualcosa veramente, voglio staccare la spina, voglio pensare più a niente, voglio guardare qualcosa che mi rilassi. E questo sicuramente fa al caso vostro, ma non solo perché vi permette di accendere anche qualche piccolo neurone che è sopravvissuto sulla testa e quindi di fare qualche riflessione. Allora, il tutto comincia con una persona che scompare. La protagonista ha un fratello con la quale, diciamo così, ha un rapporto un po' conflittuale perché, insomma, litigano spesso e durante il compleanno della madre si raduna tutta la famigliola per cui c'è questa ragazza, la protagonista, suo fratello, la moglie del fratello, quindi la cognata e i figli, due figli maschi di questo fratello. E durante appunto questa festa, piccola festa di compleanno in famiglia, scoppia l'ennesima discussione per una questione banalissima, cioè sulla scelta, poiché è stata effettuata, del regalo per la madre. E durante questa lite, ennesima lite, ma niente di che voglio dire, scaramuccio e tra fratelli, volano un po' di parole esagerate. Quindi lui le dice tipo, non ti devi far vedere mai più, vattene! Insomma, qualcosa di questo tipo. Però, insomma, sono quelle situazioni che si creano un po' tra fratelli, no? Tra persone che comunque hanno vissuto insieme tante cose, hanno vissuto anni così importanti, gli anni dell'infanzia, gli anni dell'adolescenza, insomma, quei rapporti che per quanto uno possa poi avere dei buoni rapporti con i comici, con gli amici, non si può mai arrivare a certe vette, diciamo, no? Per cui, come dire, certe vette di conoscenza approfondita e certi svelamenti, diciamo così, per usare un termine filosofico, che si hanno solo in questi rapporti così stretti dove si è vissuto così tante cose a contatto in età e in momenti così importanti, così determinanti della propria esistenza. Fatto sta che la ragazza poi passa una nottata in discoteca. È un tipo un po' diverso dal fratello, perché il fratello è un tipo molto più impostato, ha un lavoro molto rutinario, insomma, è più grande anche a livello anagrafico. Lei è un po' la pazzerella della famiglia, diciamo così, quella un po' più giovane, un po' più spensierata. Dopo questa notte, da semplice, alla fine, ragazza, da vent'anni o poco più, il giorno dopo va appunto al lavoro, lei fa l'infermiera, e c'è uno dei ragazzi che sta lì per farsi appunto una trasfusione, e vi dico questo perché solamente accade nella prima puntata, ma in realtà vuole essere un modo per invitarvi a guardare. Poi chiudo lì, diciamo, il discorso. E che cosa le fa vedere questo ragazzo che è appunto lì per farsi questa trasfusione? Un video su YouTube. E questo video fa vedere, mostra suo fratello, con un cartello in mano che dice ho fatto del male a delle donne in passato, quando raggiungeremo un tot di visualizzazioni, io morirò. E quindi parte questo video virale, perché ovviamente poi arriva da un punto in cui ne parleranno anche i telegiornali, lei con la cognata, informano ovviamente la polizia, subito si pensa ad uno scherzo, ma poi si capisce che c'è qualcosa di diverso. Questa persona probabilmente non sta facendo un atto suicidario o un annuncio di suicidio, anche perché sia la sorella di quest'uomo che la moglie sostengono trattarsi di una persona assolutamente, come dire, tranquilla da un punto di vista psicologico, senza problemi di sorta, voglio dire, quindi stabile, quindi come potrebbe essere un suicidio. Si va subito verso invece l'ipotesi di un rapimento e si comincia a sondare nella vita di questa persona. Succederà di tutto a quel punto, in pochi episodi succede di tutto. Metteranno in discussione tutto, perché ovviamente questa persona, questo fratello, questo marito incomincia ad essere messi in discussione dall'esterno e poi comincia quella che è un'attentissima riflessione su quelle che sono le conoscenze online, perché si parla tanto nella serie delle app, delle chat, diciamo così, di quelle app che permettono di fare incontri, chat, incontri di conoscenze, dove si va a conoscere delle persone, single vanno a cercare un partner, ma in molti casi questi partner non vengono mai incontrati fisicamente, ci si ferma sempre a delle conoscenze di tipo virtuale e quindi quanto è importante capire il potere di queste conoscenze virtuali, quanto possono determinare i rapporti, quanto possono cambiare gli approcci con le persone, quanto possono essere deleteri per la psiche questi rapporti così vissuti in maniera del tutto virtuale, perché se voi andate a vedere, poi una volta che avete concluso la serie, vi renderete conto di come molte volte questi rapporti esclusivamente virtuali vengono poi alla fine confusi con quelli reali, perché? Perché è più comodo, nel senso che sono rapporti spesso gestiti e vissuti proprio per la natura virtuale in maniera molto più semplice, è difficile trattare quegli esseri umani perché siamo complicati, non siamo animali, nel senso che gli animali, lo sappiamo, sono estremamente meno complicati, ci vogliono un bene infinito, io ne ho tanti, sapete che ho un cane o anche parecchi gatti, quindi noto chiaramente la differenza con questi amici a quattro zampe rispetto ai bipedi di casa con cui vivere è assolutamente più complicato. Gli esseri umani sono complicati, siamo complicati, siamo estremamente complicati e un rapporto online semplifica molto di più le cose, ci si lascia, ci si prende con una rapidità infinita, ma il problema è che non andiamo spesso a riconoscere questa differenza e scambiamo quello che è un rapporto esclusivamente virtuale, quindi svuotato di tutta la complessità che si va a determinare del rapporto reale come un rapporto invece reale, concreto e questo è molto pericoloso per la psiche perché in alcuni casi identifichiamo questi rapporti che poi alla fine sono molto meno pregni, ovviamente, in alcuni casi non esistono proprio rispetto a quelli reali con quelli virtuali, con il risultato che alla fine veramente ci autoconvinciamo di aver contratto magari la persona della vita o di aver vissuto chissà che cosa perché il resto è diciamo tutto riempimento e tutto un tentativo del nostro cervello che noi siamo diciamo fatti per farlo, siamo un po' cablati per farlo, di riempire diciamo i buchi, di riempire le parti mancanti e li riempiamo da soli queste parti mancanti e sono naturalmente mancanti perché il rapporto non è reale e virtuale e questo è estremamente pericoloso perché si creano veramente delle situazioni in cui ci identifichiamo con quello che non è alla fine, quello che non è il rapporto che non è reale e tutto questo l'ho visto in maniera palese e molto intelligente in clickbait, quindi una storia al cardiopalma che vi trascina su da una puntata all'altra per capire che cosa ne è stato di quest'uomo, che cosa ne sarà di quest'uomo perché le visualizzazioni cominciano a salire, il video diventa virtuale molto rapidamente e addirittura sul telegiornale ne parlano ed è pericoloso perché quest'uomo ha detto che quando raggiungerà un tetto di visualizzazioni morirà, quindi che cosa accadrà? Andate avanti nella narrazione e buttatevi a capofitto in queste riflessioni sul potere del web, sul potere delle chat virtuali, sul potere della semplificazione eccessiva dei rapporti umani che si viene proprio a determinare tramite queste conoscenze esclusivamente online. mi sembra di avervi detto tutto, l'altra serie tv che ho visto tra agosto e settembre è stata post mortem, però per questa non vi faccio un video a parte, ve la accenno semplicemente, è una serie che parla di vampiri norvegesi, quindi amici dei vampiri norvegesi fatti e vai avanti, potrebbe essere considerata anche una serie un po' trash, diciamo così, perché appunto questo è solo il fatto di parlare di vampiri norvegesi, e carina, voglio dire niente di che, soprattutto per le canzoni, questo mi sembra di averlo già detto, per le canzoni norvegesi che si sentono comunque assolutamente, se volete passare 3-4 ore di relax potete sceglierla. Ho un po' tradito le mie coreane, lo so ragazzi miei, perché ho visto due serie doppiate, oddio, due serie doppiate, come ho potuto, come ho fatto, ma comunque ne ho iniziato un'altra giapponese, che stiamo rimediando, ma ho visto soltanto il primo episodio, però in questo caso assolutamente mi allineo, soprattutto per clickbait, al volere del popolo che la sta facendo salire su, diciamo, tra i preferiti di Netflix. Quindi con questo vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!